ciao ragazze e ciao ragazzi e bentornati in radio recensioni di bellezza finalmente dopo un po di tempo sono ritornata vi ringrazio per le iscrizioni sul sul canale youtube per insomma le tanti commenti che sto ricevendo anche diciamo sul sul blog anche appunto sulla su questa piattaforma spreaker ho notato insomma che in tante state ascoltando i podcast quindi vi ringrazio è veramente insomma un piacere sapere insomma che vi posso essere d'aiuto oggi ritorno con un argomento che secondo me è un po diciamo clou alla fine delle vacanze cioè come mantenere la bronzatura e come diciamo evitare che la pelle una volta tornata appunto dalle vacanze insomma ovunque voi l'abbiate poi fatte appunto magari perda la bronzatura e anche la luminosità perché diciamo quello che ho notato anche quando insomma vado io al mare in piscina insomma qualsiasi in qualsiasi posto dove ci si esponga il sole ma anche ad agenti come la salsedine il cloro ma anche lo stesso sudore e fanno sì che praticamente la pelle insomma tornata dopo insomma dalle vacanze appaia spenta e opaca disidratata e quello è tutto dovuto dagli agenti atmosferici che appunto la pelle che è stata esposta a questi agenti risulta appunto più un po diciamo provata ma anche la stessa lo stesso sole cioè rende la pelle più secca e più diciamo sì più secca più opaca come se fosse appunto avizzita e quindi questo assolutamente non è uno diciamo delle non è un aspetto che ci interessa immagina nessuno di noi pertanto mantenere la bronzatura sì ma anche andare verso pensare di andare verso l'autunno portando la pelle appunto a un diciamo uno stato di benessere quindi di luminosità di idratazione e quant'altro quindi vi voglio dare qualche consiglio per mantenere un minimo la bronzatura ma anche per diciamo come dire avere appunto la pelle portarla appunto a un rinnovamento cellulare in maniera tale che possiamo diciamo ottenere il meglio dall'esposizione al sole che abbiamo fatto in queste settimane allora comincio subito col dirvi che secondo me tutto parte dalla detersione quindi sia per quanto riguarda il corpo che per quanto riguarda il viso io il consiglio che vi do è diciamo un detergente su base oleosa perché avete due effetti intanto il detergente oleoso è meno aggressivo di un detergente schiumogeno e quindi vi permette di non lavare via la bronzatura non essere troppo aggressivo ma allo stesso tempo vi dà anche un plus di idratazione perché molto spesso questi detergenti oleosi contengono al loro interno oli naturali molto idratanti pertanto appunto la pelle è sillavata cioè ci sono dei detergenti schiumogeni molto molto delicati e all'interno appunto questi oli quindi potete insomma recarvi nella farmacia nella parafarmacia online insomma io spesso ne ho parlato anche sul blog di questi detergenti oleosi io per esempio uso quello dell'avon ultimamente sto utilizzando quello della linea alla canna passativa che oltre ad avere appunto questa azione blandamente detergente ha anche un'azione appunto riparatrice e disinfettante perché contiene tutta una serie di estratti vegetali naturali che aiutano appunto la pelle a essere diciamo più protetta dai gli agenti quali possono essere batteri anche perché appunto continuiamo a portare la mascherina e con il sudore si crea un diciamo all'interno della mascherina un microclima che è sicuramente favorisce la nascita appunto di brufoletti impurità varie che chiaramente se non trattate e soprattutto su una pelle che è già sensibile a quel tipo di di problematica sicuramente le va a peggiorare quindi io continuo a utilizzare questo detergente oleoso con cui mi trovo molto bene e diciamo a periodi alterni vado con un detergente schiumogeno un paio di volte a settimana insomma dipende anche da com'è la mia pelle da quello che diciamo da da quello che ho di da quello che avevo sopra alla mia pelle però per quanto riguarda il corpo un detergente oleoso vi aiuterà a mantenere molto bene anche l'abbronzatura c'è poi da dire che l'abbronzatura sul viso va via prima dell'abbronzatura sul corpo e lì purtroppo c'è poco da fare voglio dire finché le giornate ci aiuteranno ci si può ancora continuare ad esporre al sole altrimenti due soluzioni molto rapide sono o un'auto abbronzante che sicuramente diciamo vi aiuta a mantenere quel diciamo livello di abbronzatura e diciamo in maniera con un effetto più duraturo perché l'auto abbronzante una volta che si fissa poi rimane ovvio bisogna sempre stare attenti a come lo si applica a tutta la procedura per l'auto abbronzante potete anche insomma lasciarlo asciugare bene però una volta che si è fissato l'effetto è duraturo e peraltro c'è un ottimo pro che è il fatto che una volta che si fa l'applicazione e si arriva all'intensità che si desidera poi ci si può lavare ci si può detergere e la schiaritura avviene gradualmente esattamente come l'abbronzatura quella presa al sole diciamo naturale un'altra soluzione possono essere dei gel abbronzanti cioè dei bronzer liquidi che possono andare a intensificare l'abbronzatura quindi lo si applica come un make up praticamente però a fine giornata ci si strucca e praticamente non diciamo non ci sono non è un prodotto che rimane fisso quindi questo dipende un po' dalle vostre esigenze se avete necessità di un prodotto che sia un pochino più duraturo o semplicemente vi piace andare a scaldare l'incarnato ma insomma volete poi arrivare a una schiaritura graduale e quindi questo potrebbe essere una soluzione ce ne sono di tanti tipi io vi segnalo il gel abbronzante dell'Avon che è molto molto carino con cui mi sono trovata molto bene e fa parte della linea bronzing gel bronzing glow ed è un bronzer che si può utilizzare sia sul viso che sul corpo molto fresco si asciuga rapidissimamente quindi assolutamente non c'è nemmeno bisogno di fare tutta quella procedura che si fa per l'auto abbronzante per cui bisogna fare prima lo scrub poi applicarlo insomma in maniera che si asciughi quindi bisogna stare ben lontano da vestiti insomma c'è tutta una procedura per l'auto abbronzante che è un po' più diciamo come dire rognosetta però chiaro sono due effetti e due risultati completamente diversi però diciamo ve ne ho citati questi due perché secondo me sono due prodotti che per migliorare per esaltare un po' l'abbronzatura che vi siete guadagnate magari ecco stando al sole insomma durante le vacanze possono esservi d'aiuto poi quello che sicuramente vogliamo fare è dello scrub lo scrub aiuta moltissimo la pelle a rinnovarsi e sappiamo che la pelle si rinnova ogni 28 giorni pertanto diciamo il rinnovamento cellulare è necessario per quanto riguarda diciamo il ripristino della luminosità e del benessere della pelle ora per quanto riguarda diciamo gli scrub ce ne sono di tantissimi tipi in commercio ma assolutamente lo possiamo realizzare anche a casa basta avere un olio naturale dello zucchero della vitamina e del sale del sale da cucina insomma è molto semplice preparare uno scrub a casa soprattutto uno scrub corpo mentre magari per uno scrub viso vi suggerirei di utilizzare qualcosa di un pochino più delicato come potrebbe essere l'amido di riso l'amido di mais che hanno sempre un'azione scrabbante e ovacizzante e che rende la pelle visivamente più luminosa ma sono assolutamente più delicati quindi dipende anche da cosa volete ottenere uno scrub secondo me meno una volta a settimana va effettuato proprio per aiutare la pelle a eliminare le cellule morte non pensate che lo scrub assolutamente vi porta a una certo accelera un pochino quindi la depigmentazione della pelle però secondo me è necessario perché le cellule morte non fanno altro che portare grigiore sulla pelle e quindi assolutamente non è quello l'effetto che vogliamo ottenere la pelle deve essere bella liscia luminosa e appunto una pelle di seta quindi non può essere assolutamente una pelle secca vizzita grigia cioè assolutamente non credo che quello l'effetto che vogliamo ottenere per quanto riguarda poi diciamo l'idratazione beh qui insomma l'idratazione è qualcosa che dovrebbe essere proprio alla base no quindi ricordatevi sempre di utilizzare dopo la doccia una buona crema io ultimamente non sto utilizzando un olio mix di oli e mi sto trovando molto bene perché la pelle dopo la doccia e l'olio proprio viene assorbito molto velocemente pertanto insomma vedo che la pelle risulta anche molto più liscia molto più compatta e questo diciamo questo effetto è anche prolungato nel tempo perché comunque io sì è vero che appunto faccio la doccia tutti i giorni ma magari non devo applicare l'olio tutti i giorni quindi ho notato questa cosa inoltre per quanto riguarda l'idratazione del viso quello che vi consiglio io è di appunto non saltare mai questo passaggio perché può essere appunto molto dannoso per la pelle ricordiamoci che il sole è il nemico numero uno per quanto riguarda l'invecchiamento quindi l'invecchiamento della pelle quindi potreste trovarvi dopo l'estate con una diciamo rughette che magari prima non avevate notato macchie solari che prima magari non avevate notato perché in inverno tendono a schiarire invece in estate tendono a oltre che a svilupparsi a venire ancora più fuori quindi la cosa migliore è se potete procedere gradualmente con un'azione rigenerante della pelle magari utilizzando un siero la vitamina c magari andando a utilizzare dei prodotti un pochino più adatti appunto a portare la pelle a uno stra a un diciamo un livello di luminosità quindi acido ialuronico vitamina c sono tutte oli vegetali sono tutti diciamo attivi che comunque vi aiutano a mantenere la pelle luminosa nel tempo e a evitare che questi diciamo questi piccoli inestetismi che vengono appunto provocati dall'azione del sole portino poi alla lunga a delle appunto dai veri e propri inestetismi quindi macchie rughe e macchie che poi appunto sono anche molto difficili da da mandare via quindi si inizia da subito dopo l'estate a lavorare proprio per la prevenzione ma soprattutto per andare a eliminare quello che purtroppo si è inevitabilmente creato quindi se avete lavorato bene durante l'estate se vi siete messe la protezione solare avete idratato sempre bene la pelle vi siete appunto avete diciamo dopo l'esposizione solare vi siete idratate avete fatto insomma tutte le vostre operazioni non ci sono non ci saranno sicuramente problemi comunque bene che dopo l'estate si diciamo dopo le vacanze si faccia questo diciamo questo percorso di per rinnovare la pelle proprio per ottenere il meglio dal sole quindi benefici di un bel colorito sano di un bel colorito diciamo abbronzato senza però diciamo purtroppo andare incontro agli inestetismi che purtroppo portano in maniera inesorabile il sole soprattutto perché è over 40 ma anche sulle giovanissime io penso che insomma agire in maniera preventiva sia assolutamente meglio che poi magari ecco trovarsi a dopo i 35 anni con delle macchioline con insomma delle problematiche che poi insomma sono un po difficile perché sentivo proprio oggi una video del dottor Campos non so se lo conoscete ma io lo seguo sul suo canale youtube e appunto parlava appunto di questo fatto cioè come le macchie solari se sono diciamo delle macchie di prima insorgenza è facile anche andarle eliminare se invece sono delle macchie un po più vecchie si può andare a migliorare diciamo l'aspetto estetico però sono più difficili da togliere e quindi parlava proprio appunto di come iniziare subito dopo le vacanze tutto un percorso per appunto migliorare la pelle però appunto cominciare a lavorare su come eliminare le macchie perché purtroppo le macchie durante l'estate escono fuori io in estate ormai insomma lo so che ci sono queste diciamo c'è ritornano queste macchie soprattutto sulla parte degli zigomi sul dorso del naso sugli zigomi e sono molto difficili da da togliere però è perché poi in inverno certamente si si schiariscono molto però se si agisce bene durante l'estate non peggiorano più di tanto infatti cioè le vedo un pochino un po più accentuate ma non le vedo peggiorate quindi questi sono un po i miei consigli per diciamo il ritorno dalle vacanze per continuare a beneficiare diciamo dei raggi solari del sole delle è ancora insomma di questi di questo ultimo credo mese mese e mezzo che ci sarà ancora di belle giornate però appunto andando verso l'autunno con una pelle che ha beneficiato dei appunto dei raggi solari però insomma non si porta dietro magari tutte le diciamo le gli effetti negativi che purtroppo inevitabilmente il sole ha io vi ringrazio spero che questi miei consigli vi possano essere stati utili trovate vi lascerò alcuni link di alcuni articoli che ho realizzato negli ultimi tempi dove potete trovare tanti spunti sia su prodotti ma anche su diciamo problematiche particolari vi vorrò probabilmente diciamo un prossimo un prossimo podcast potrebbe essere diciamo riguardante la mia esperienza con una dermatite che ho avuto proprio di recente quindi aiutarvi un po anche a darvi qualche consiglio per un problema così di cui si parla poco e che in realtà però è molto ostico perché io ho trovato grosse difficoltà per appunto curarmi e trovarmi delle creme adatte che mi portassero sollievo ma ripeto ve ne parlerò in seguito penso proprio che ve ne parlerò in seguito e mi potete seguire sui miei canali social come recensioni bellezza quindi su facebook e instagram mentre recensioni di bellezza mi trovate sul canale youtube e li trovate spesso recensioni a prodotti ultimi acquisti vi ricordo appunto che io sono consulente indipendente sia per avon che per vegas cosmetics quindi potete anche chiedermi insomma aiuto per qualche prodotto che vi è particolarmente interessato o consigli semplicemente su su quali prodotti magari insomma sono più adatti a voi io spero che questo podcast vi sia stato utile e vi saluto a presto con un altro podcast di radio recensioni di bellezza ciao a presto